Ti porto via! Mi ripa! Non è che ti fai più, si fa con la mano, si fa con la mano, si fa con la mia, si fa con la mia, prendo coltello, la mia sotto la sciata, come se fisse pane, come fa pancese, baguette, baguette, nel giorno dove vai con la mia, c'è la musica, le cucchie! E' la musica, le cucchie! E' la musica, le cucchie! Un appartamento, un appartamento, un appartamento, e che è la musica! E' la musica! Minimina e Badol Hai disegnato la classe?